Eee what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giochini in questo nuovissimo video del sabato Ebbene ragazzi la scorsa volta avevo detto che appunto avrei voluto cominciare a dedicare il sabato a video un pochettino random Che potrebbero essere appunto vlog, che potrebbero essere video su giochi completamente a caso Tipo giochini online o giochi gratis eccetera eccetera Alcuni di voi ovviamente mi hanno consigliato diverse cose come avevo chiesto di fare Per cui di questo già vi ringrazio Ma precisamente Anna Lombax Girl mi ha ricordato ragazzi che esiste Happy Wheels La cosa divertente è che per un certo periodo l'ho anche portato sul mio canale Perché c'è stato un periodo ragazzi qua su Youtube che Happy Wheels andava veramente tantissimo Sapete tipo quelle mode del momento no eccetera Però ovviamente dopo un po' l'ha abbandonato perché magari tanti video poi possono diventare monotoni e ripetitivi Andiamo ovviamente ad aprire la lista dei livelli creati ragazzi Dai giocatori stessi Io selezionerò questo qua ragazzi perché se non mi ricordo male era tipo uno dei miei personaggi preferiti E gli avevo dato anche un nome L'avevo chiamato Bob Bob? Ok sceglieremo Bob Aspetta aspetta un attimo Aspetta un secondo Oh porca vacca Oh porca vacca Un meteorite Oh Bob scusa scusa Bob mi dispiace dell'anima Aia la concita è tua ormana ma che diavolo sta succedendo Bob continua a rimanere attaccato al tuo monopattino Non ti arrendere Niente ragazzi ho scelto proprio come il culo direi il primissimo livello perché non ha avuto senso Attenzione perché già la stavo lasciando in death Più quattro palle questo ci piace Eeeh lanciala Bob Bob lanciala Oh 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 O te sceglierò Bob Oh porca Oh non mi piace Oh non mi piace Oh oh Dai che ci siamo Dai che ci sei Bob Liberati Bob Puoi farcela Oh Questo serve per frenare Perfetto Oh Pia Ai miei grossi dubbi Piano 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 Porca miseria Ah ha preso il mio bambino Ah Oh Vittoria 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 Sì Sì Oh Oh Si è pensato all'ultimo Abbiamo vinto Madonna questo si che sta rico Vai col bambino Ah Madonna Ciao nonno Ti volevo bene Oh Oh Pugopondo Non ci credo Un organo di un'altra persona Ha fatto cadere la grassona Prendila La spada Ah Ecco Come non detto Ok questo livello si chiama Indiana Jones Cos'era quel rumore Oh Non mi dice niente di buono Piano Oh porca miseria Bobo perché sei rimasto così Su via Tirati su Ok I livelli di questo con la bicicletta Non sono mai un gran che Oh Si va Oh Le mie in braccia Le mie in braccia Oddio che cosa sa Dica Oh Piano Oh Piano Oddio che sta succedendo Aiuto Oddio Sto livello dice di non giocarlo E io perché Reggiti Bob Prendila Bob Oh merda Ok Ok Ti devi dare un po' di slancio Ok Reggiti Non mollare la presa Ok Ce la faccio Oh porca vacca Adesso Adesso Scusa Bob Ok Questa si che è cattiva Aiuto Pensavi di farmela Oddio aspetta Adesso Tocca a te Oddio Mi è caro dal tasso il cadavere Rimetti di su Tira di su Avvia Tocca a te Eh L'armada del gordo Tocca a te Aia Porca Oddio ma c'era Spara Ok Ok Ditemi che ho vinto Se che ho vinto Dopo livelli di sadismo Incredibili Se vince Signori Se vince Qua dice parkour Leggende Aspetta Aspetta possiamo farcela Bob E su Scusa Bob Scusa Bob Oddio no Il vecchio in carrozzella È bisogno di un mio aiuto Perché Cosa vuoi da me Via Che sta dicendo Non sto manco leggendo Perché Io sono un vecchio Trascri Se vola Oddio Riuscirò mai ad avanzare Non lo so C'ho i miei dubbi A sto punto Ragazzi Via Tu via No No Che ci ho messo la vita Ok Ok Con calma Voi carete Tutti Bravi Bravi E Anche voi carete Via E io continuerò ad avanzare Al fine Fino alla vittoria Ma per te Seguili Ovviamente Due che corrono così Come fai a non seguirli Ma io vado avanti Mi scusi Signore Go down Certo Sole Mi fido sicuramente Di te Oddio 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 Mi sa che devo cadere Così Piano Porca vacca Miseria Dai che ce la facciamo Bob Sei ancora vivo Incredibile Ma vero Per metà Ma sei ancora vivo Portatela presa Col pezzo di gamba Perché magari te lo riattaccano Come non detto Vabbè Te lo sei scordato lì Eeeh E si vince Ragazzi Mi sa che ho scelto Il personaggio sbagliato Per fare questa cosa Vabbè ragazzi Allora Che dire Io non credo Che farò altri video Su Figuils Perché mamma mia Come sadico Cercherò sicuramente Altre cose carine Da fare Ovviamente Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Updosh a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che trovate in descrizione Tutti i link dei miei social I link per fare delle donazioni E il sito Digital24.it Dove potete avere Il 5% di sconto Sugli acquisti Grazie al mio codice Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti